Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 30 luglio 2010. Vedete il titolo? Ritratto di famiglia. Oppure ritratto della famiglia. Questa volta la sollecitazione mi giunge da questo caro amico o amica, non lo so, lo vedete il nickname com'è, lo vedete voi il nickname, lo vedete, e dice pieno appoggio a Massoni e mi manda il link di un articolo. Mi manda il link di un articolo. Anza, Anza, i delitti in famiglia uccidono più della mafia. Allora io questa notizia, è tanto tempo che ve la do, solo che ho compiuto, ogni volta che ve l'ho data la notizia, ve l'ho data sperando che voi vi fidiate di me, di me, di me Serafino Massoni, cioè non ve l'ho mai mostrata la documentazione. Qual è la notizia che io vi ho dato tante volte? È che dentro la famiglia ci sono più morti ammazzati ogni anno e di quanti morti ammazzati ci siano in un anno per colpa di Camorra, Andrangheter e mafia. E così uno non ci crederebbe, no? Perché per la nostra mente patriarcalizzata si fa fatica a fare la correlazione. Sentiamo che uno viene ammazzato là in famiglia. Ma in famiglia vuol dire che per esempio il marito ammazza la moglie, il compagno ammazza la compagna, o il fidanzato ammazza la fidanzata, e anche i parenti magari della fidanzata o della compagna o della moglie. Questi sono i delitti in famiglia. E tanti anche, tanti altri delitti ci sono in famiglia. Solo che non si fanno le correlazioni. Così, sono episodi sparsi, non vengono correlati per dire beh, ma facciamo un bel ritratto di famiglia, no? Facciamo un bel ritratto di famiglia. No, così se ne parla anche in prima pagina dei grandi delitti passionali, ma sono tanti i delitti passionali, quelli che si compiono in nome dell'amore. Quella nobile donna che durante la rivoluzione francese fu portata sulla ghigliottina e prima di morire disse Libertà, libertà, quanti misfatti si compiono in tuo nome? E qua, io in questo video vorrei dire Amore, amore, quanti misfatti si compiono in tuo nome? Va bandita la parola amore, va bandita la parola amore. Ma quante volte ve lo devo far vedere questo romanzo storico-mitologico La stirpe del serpente pubblicato dalla casa editrice Aliberti il cui proprietario si chiama Francesco Aliberti e Francesco Aliberti è anche il co-editore del Fatto Quotidiano il Fatto Quotidiano dove i direttori sono unitari Marco Travaglio e Furio Colombo e Antonio Padellaro quante volte ve lo devo mostrare questo romanzo storico-mitologico dove si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato ma quando usco e tandem dovrò mostrarevelo questo romanzo qua casa editrice Aliberti il cui proprietario Francesco Aliberti è anche il co-editore del nuovo quotidiano il Fatto Quotidiano dove scrive Marco Travaglio come si fa come si fa a non comprare il Fatto Quotidiano quando si sa che c'è la firma di Marco Travaglio come si fa e va bene allora questa è la volta però che la documentazione sui delitti in famiglia o dentro la famiglia o nei ritori della famiglia questa volta ve la do la documentazione prima non l'avevo mai messa da parte ho detto vabbè ma questi ragazzi che mi seguono si fideranno no? De Serafino Massoni però mi pare giusto che fidarsi è bello ma non fidarsi è meglio allora mi pare giusto che a questo punto che ho un amico che mi manda la documentazione questa volta ve la mostro ve la mostro proprio 29 luglio 2010 e questo è apparso è apparso l'articolo è di Mara Rodella e apparso non so bene Eures Ansa beh insomma scrivete poi che cosa volete che vi dica Eures Ansa i diritti in famiglia uccidono più dalla mafia sì sì ma questo è restrittivo perché ci vorrebbe mafia Camorra e Drangata ma vediamo un po' che c'è scritto qua in questo articolo della Ansa uccide più della mafia uccide più della mafia e della criminalità comune nella maggior parte dei casi lo fa con un'arma da taglio e allora affare del delitto in famiglia il primo indiziato nelle cause di morte in Italia non sono solo i fatti ma il rapporto Eures Ansa 2009 ah ecco allora se volete una conferma andate a digitare sul meraviglioso Google rapporto Eures Ansa 2009 eh andate a digitare e vi salta fuori tutte queste belle notizie vi saltano fuori e che c'è scritto che c'è scritto che c'è scritto che in riferimento all'anno precedente piazza il nord in testa la classifica con 70 vittime donne pari al 47% delle 147 uccise nel 2008 in Italia 44 nel sud 33 nel centro quindi pare che nel nord si ammazzi in famiglia si ammazzi di più che nel sud e insomma si continua si continua si continua si continua poi qua c'è tutta una ripartizione provincia per provincia però la morale della favola è di questo di questo documento che vado ripeto Eures Ansa 2009 la morale della favola è che ci sono più morti ammazzati in famiglia o negli intorni della famiglia che non a causa di camorra andrangheta e mafia messa insieme ma pensate un po' che ritratto di famiglia cari amici che ritratto di famiglia o della famiglia ma io come faccio come faccio che ci sono tanti di voi che non si fidano di Serafino Massoni non hanno fiducia non si fidano dicono che io dico solo delle cose brutte sulla famiglia ma io che vi posso dire andate a vedere su google allora il rapporto Eures Ansa 2009 prendetevola con Eures Ansa 2009 andategliela a dire Eures Ansa 2009 ma perché tu Eures Ansa 2009 hai buttato fuori queste brutte notizie e cioè che ci sono più morti ammazzati in famiglia e nei dintorni della famiglia che non per colpa di camorra drangheta e mafia messa insieme ma perché Eures Ansa ci vai a buttare fuori queste brutte notizie santo cielo io poi però c'è un fatto che ho la mia deformazione professionale mentre Marco Travaglio e già Indro Montanelli quando era in vita glielo diceva Marco Travaglio tu Marco Travaglio hai un archivio sì c'è un archivio sterminato Marco Travaglio a casa tutti i ritagli dei giornali e Indro Montanelli diceva al giovane Marco Travaglio tu hai un archivio e se hai un archivio sei imbattibile solo che gli articoli l'archivio di Marco Travaglio è costituto solo da ritagli economici politici tutti i politici fra i politici le frasi dette dai politici così se un politico oggi dice una cosa però Marco Travaglio gli fa vedere al politico in tv che cinque anni fa aveva detto il contrario invece io no io ho un altro tipo di archivio io ho un altro tipo di archivio vedete questo qua per esempio è il Corriere della Sera i miei archivi sono fatti così sono fatti riguardano la famiglia monocamica patercale cosa volete ciascuno ha le proprie debolezze questo fra il Corriere della Sera paginone martedì 29 novembre 2005 se qualcuno di voi vuole togliersi la soddisfazione non so se si può vada un po' a cercare questo paginone pagina 24 Corriere della Sera pagina 24 martedì 29 novembre 2005 vedete vedete tutti i dati che vi date la Fino Massoni vedete la pagina 24 mi pare vedete vedete allora DNA svela migliaia di false paternità DNA svela migliaia di false paternità in Inghilterra in Inghilterra nel 2005 veniamo a sapere che fatto l'esame del DNA al pupetto salta fuori che il pupetto non è del papà non è del suo papà è di un altro papà capito non è del papà ufficiale è del papà ufficioso quello che mi ha fatto le vici del papà un po' come nella Sacra Famiglia e Gesù Giuseppe e Maria identico 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 solo che nella Sacra Famiglia Giuseppe lo sapeva che il bambino Gesù non era figlio suo perché Maria la Santissima Vergine onestamente gliel'ha detto e guarda che io sono già incinta e invece qua salta fuori dopo che il figlio è d'altri e volevamo sentire le percentuali degli uomini che hanno fatto il test in media uno su sei è risultato non essere il padre del bimbo uno su sei vuol dire dieci su sessanta vuol dire cento su seicento vuol dire che cento bambini su seicento bambini risultano non essere figli del loro papà ufficiale ma di un altro papà di un altro papà e poi io penso che se la facciamo questa operazione su tutta la società cosa salta fuori cosa salta fuori io ricordo che ci fu un famoso rapporto un rapporto sessuale alla fine subito dopo la fine della seconda guerra mondiale ci fu un famoso rapporto che in sé non mi riporto bene dove si davano anche se allora non c'era ancora l'accertamento genetico della paternità dove si davano delle notizie di questo genere era il 1948-49 e lì si diceva appunto che tanti bambini tanti 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 non erano fiori non fu fatto uscire fu bloccato quel rapporto là perché se no gli uomini si cosavano si mettevano paura gli uomini non si sposavano più non si sposavano capito perché allora non c'era ancora l'accertamento genetico della paternità e l'hanno tenuto l'hanno bloccato l'hanno fatto uscire dopo 10-15 anni mi pare e quando i tempi erano un pochettino più maturi gli uomini si erano un po' abituati a quello che si chiama un sociologo l'ha chiamato il sesso vagabondo il senso gironzolone capito il senso vagabondo e questo avviene cioè questa faccenda qua dei bambini che sono figli di un altro papà non del loro papà ufficiale e questa faccenda avviene in tempo in cui le donne lo sanno che c'è l'accertamento del codice della paternità tramite verifica sul codice genetico potete immaginarvi che cosa succedeva quando non c'era questo test prezioso per gli uomini quando non c'era cosa succedeva ma quanti bei bambini sono stati rifilati al loro papà e invece erano di un altro papà quanti bambini nella storia dell'universo patriarcale sono stati rifilati uuuuh quanti 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 e zitte le mamme e zitte perché le mamme sono capaci di stare zitte e le mamme sono capaci di stare zitte e gli vogliono tanto bene al loro pupito perché è uscito dal loro seno al loro grimbo e però col marito quello legale non parlano come si suol dire manco sotto tortura è fio tuo è fio tuo è il sangue è il sangue del tuo sangue è sperma del tuo sperma capito io vi vorrei dire cari amici ma dove che fai seratino qua distruggiamo tutto buttiamo giù tutto ma no ma no ma assolutamente no io vi vorrei fare qualche proposta vi vorrei fare chi intende sposarsi chi intende sposarsi o chi intende andare a convivere prima di una bella occhiata va in una biblioteca comunale si fa dare un libro di storia dell'arte storia dell'arte religiosa magari dove ci sono tutti i dipinti che ritraggono la santa famiglia Gesù Giuseppe e Maria e questo giovanotto che vuole sposarsi perché si è innamorato è stato preso dalla furia di quella passione che si chiama amore amore che è un oltraggio la parola amore è un oltraggio è un oltraggio è un crimine è contro l'umanità la parola amore vedete no che cosa fa fare la parola amore la parola amore ammazza più persone che non che non camorra andrà anche da mafia messe insieme andrebbe bandita da tutti i vocabolari allora questo giovanotto prima di sposarsi o di andare a convivere no con tante speranze si dice giovane di piene di belle speranze si dice perché magari se è cresciuto in una famiglia dove mamma e papà si picchiavano sempre il giovane di belle speranze non dà mica la colpa alla famiglia monogamica patriarcale no la colpa è di mamma e papà sono mamma e papà che non ci hanno saputo fare ma io io il giovane di belle speranze la famiglia mia me la faccio bella sana sana non li dicherò mai con l'amore mio mai fotografie che ci stanno nei libri d'arte d'arte religiosa le fotografie dove c'è viene riprodotto i dipinti beh ci sono tanti dipinti Gesù Giuseppe Mariano e io Serafino Massoni che vi parlo da questa meravigliosa tv pubblica vi dico trovatemi un solo dipinto dove ci sia la Madonna che guarda Giuseppe la Madonna guarda sempre il bambino chissà perché Giuseppe il marito il marito non lo guarda mai capito la Sacra Famiglia mi pare forse ce n'è uno forse ce n'è uno per sbaglio forse ce n'è forse ce ne sarà uno guardate su migliaia e migliaia e migliaia di dipinti della Sacra Famiglia Gesù Giuseppe e Maria ce ne sarà uno forse di dipinto dove Maria guarda suo marito Giuseppe negli altri migliaia e migliaia e migliaia Maria guarda sempre il bambino come dire il marito non esiste che sia il marito quello naturale o il marito legale anche se Giuseppe era il marito naturale insomma il marito biologico quello che aveva fatto il bambino davvero con lo suo sperma sempre la Madonna guardava il bambino e l'uomo una volta sposato diventa lo zerbino il patriarcato è giusto che sia così il patriarcato perché il patriarcato nasce proprio con la scoperta della funzione dello sperma il patriarcato nessuno sapeva come nascevano i bambini nessuno sapeva come nascevano i bambini il patriarcato i bambini nascevano e tutto e basta la donna non poteva dire sei stato tu che mi hai messo un cinta sei stato tu e mi paga per tutta la vita allora dopo però il patriarcato si è saputo il patriarcato nasce quando l'umanità scopre la funzione dello sperma un po' di qua un po' di là sapete mica c'erano le televisioni mica c'era internet una volta le scoperte sono state fatte un po' di qua un po' di là e nasce il patriarcato e da quel momento i uomini tengono in prigione la donna la tengono in prigione in modo che non vada a prendere lo sperma degli altri uomini la controllano capito per avere l'accertamento della paternità ovvero la proprietà sul proprio figlio proletario è la parola dell'antica Roma che stava a indicare colui che era così morto di fame che come unica forma di proprietà privata aveva i propri figli proletario poi nell'800 nel 900 è stata usata la parola proletario con riferimento alla catena di montaggio ci siamo dimenticati di qual era all'origine significato della parola proletario un poveretto che come unica forma di proprietà privata aveva solo i propri figli proletario in patriarcato la donna è sempre incazzata nei confronti dell'uomo fa finta di essere tanto dolce fa finta e per forza che è incazzata perché gli uomini hanno costruito per le donne quella gabbia che si chiama famiglia monogamica patriarcale che altro non è che un controllo continuo nei confronti del comportamento della donna perché si ha paura che la donna faccia i bambini con lo sperma altrui e poi dica al marito sei stato tu sei stato tu è il massimo che può accadere un uomo capita spesso però ve l'ho dimostrato e in carcere e in carcere che può fare il carcerato il carcerato non fa altro che cercare di prendere in giro il carceriere che deve fare che deve fare per cui noi uomini e noi uomini prima di sposarci o di convivere dobbiamo farci una riflessione su queste cose e abbiamo inventato l'amore anche non è mica un sentimento naturale cioè non è una passione naturale l'amore è una passione patriarcale è stata inventata dal patriarcatolo come tante altre passioni la passione dall'amore per la patria la passione perché so quello spirito guerriere che dentro mi arde che non so mi pare cose simili sono passioni patriarcali in natura c'erano cioè in natura in patriarcato c'erano i dolci sentimenti i sentimenti gli affetti invece l'amore come passione come questa passione che tutto travolge mi pare che sia Tito Lucrezio Caro mi pare che in De Re Runnatura mi pare che inizi con Omnia Amor Vicit ma quale Omnia Amor Vicit Tito Lucrezio Caro semmai l'amore tutto distrugge ah lo ripeto lo ripeto amore amore quanti misfatti si compiono il tuo nome amore 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 ma quante volte ve lo devo dire quanti misfatti ma quanta infelicità che semina questa passione patriarcale che si chiama amore Eures Anza ma che me lo siete già dimenticati che ho esordito con quel documento del Euro Eures Anza ve lo siete già dimenticati adesso a metà del video Eures Eures Anza ci sono più morti ammazzati dentro la famiglia nei suoi vintorni che non per colpa di Camorra andrà anche della mafia non ve lo dimenticate questo e questa non è mica farina di Serafino Massoni non è farina di Serafino Massoni eppure questa non è mica farina di Serafino Massoni in tempo di accertamento genetico della paternità guardate quante brave sposine quante brave sposine che usano lo sperma altrui e poi dicono a te che è figo tuo è figo tuo è figo tuo capito è figo tuo è una storia vecchia questa tanta vecchia e u quanto è vecchia questa storia ma allora gli dice che facciamo spazziamo via tutto io so che qualche qualche tempo fa mi è arrivato un messaggio dove mi si dice e beh ma tu se continui così la gente non si sposa più e la specie umana finisce io gli ho risposto caro nella economia generale dell'universo che la specie umana ci sia o non ci sia è come un soffio di vento nella economia generale dell'universo infinito il valore della specie umana è il valore di un soffio di un soffio ma poi no non è vero non finisce non finisce perché la gente continua a sposarsi perché ogni figlio sulla base del condizionamento ricevuto all'interno della sua bella famiglia monogamica patriarcale vuole superare il papà ogni figlia vuole superare la mamma e ogni figlia e ogni figlio magari cresciuti in una famiglia dove papà e mamma se le sono sempre date le santa ragione dalla mattina alla sera ogni figlio e ogni figlia non dirà mai giunti all'età dell'adolescenza quella delle grandi passioni amorose non dirà mai che 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 la famiglia è brutta diranno che mamma e papà sono dei cretini capito che non sono stati capaci di tenerla in piedi alla famiglia e ogni ragazzo e ogni ragazza dirà io sì che la farò la mia bella famiglia mamma e papà sono due cretini mamma e papà non ci pensano mica i ragazzi a dare la colpa alla famiglia in sé per sé no 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 siccome c'è il meccanismo che ogni ragazzo e ogni ragazza ogni ragazzo sarà più bravo del papà ogni ragazza sarà molto ma molto ma molto più brava della mamma e quindi tutti a lei continuano il meccanismo continua all'infinito tutti a farsi una bella famiglia monocamica patriarcale tutti a lei giù e quindi niente paura a questi miei video state tranquilli non impediscono ai ragazzi e alle ragazze di belle speranze di farsi una bella famiglia monocamica patriarcale o anche di convivere anche di convivere non cambia mica niente le unioni di fatto sono identiche alle unioni dei uri non cambia i meccanismi psicologici sono sempre gli stinti tranquilli che questi miei video non dissuadono i giovani dal mettere su famiglia perché ogni giovane ogni ragazzo ogni ragazza vuol dimostrare a se stesso e al mondo di essere migliori di mamma e di papà mamma e papà hanno sbagliato non danno la colpa all'istituto familiare no danno la colpa a quei due cretini di mamma e papà ma loro saranno senz'altro migliori di mamma e papà loro si che la faranno una bella famiglia monogamica patriarcale e allora non è tranquilli che non finisce per questo motivo la specie umana la gente continuerà a sposarsi continuerà se non altro perché i ragazzi e le ragazze vogliono dimostrare sul campo di battaglia che sono migliori di mamma e di papà allora qual è il consiglio andate andate a vedere andate a vedere cari ragazzi le stampe le foto dei dipiti della sacra famiglia Gesù, Giuseppe e Maria Maria non lo guarda mai Giuseppe ma chi sei tu ma chi sei guarda solo il bambino perché è uscito dal suo grembo ogni mamma ama il suo bambino se è una bambina la ama tanto e se è un bambino lo ama ancora di più lo fa crescere come un principino lo soffoca d'amore lo soffoca lo soffoca d'amore capito un principino il marito è uno zerbino il marito il marito un compagno che sia lo zerbino e allora prendiamo atto di questa realtà cari giovani ma si andate pure a sposarvi fate pure la famiglia monogamica patriarcale ma sappiate di queste cose quindi non fatevi trascinare dalla passione dell'amore che non è una passione innata dell'uomo è una passione costruita e vogliatevi bene ma lasciatela da perdere la passione d'amore la passione d'amore è quella che poi porta le statistiche a dire che 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 la famiglia monogamica patriarcale o nei suoi dintorni ci sono più morti ammazzati che non da caborra dranghe mafia messi insieme e si da in conclusione del video ve lo devo ricordare il documento Eures Anza sennò voi ve lo siete già dimenticati capito andate andate a digitare su google andate a digitare su google Eures Anza Eures Anza rapporto mi pare 2009 mi pare ve l'ho detto prima mi pare sì sì Eures il rapporto Eures Anza 2009 e ne vedete di tutti i colori cari amici e ricordatevi anche di questo e non fatevi trovare impreparati io ho sempre detto ai ragazzi che se vogliono sposare o che vogliono convivere che che al pranzo di nozze invitino invitino gli avvocati gli avvocati o un avvocato o un notaio che si facciano dei patti precisi dice sì sì c'è già il codice penale il codice civile vabbè ma ogni coppia è un mondo a sé ma fate dei bei patti prematrimoniali cari fate dei patti prematrimoniali belli precisi ben documentati perché tante volte vi ho detto che è meglio chiamare gli avvocati andare dagli avvocati quando si ride no? quando si ride cioè quando ci si sposa o quando comunque si fa la festa piuttosto che andarci dopo quando si piange perché dopo quando si piange gli avvocati costano ma anche di più costano va bene va bene cari amici io penso per oggi di aver già detto abbastanza mi raccomando vedete la differenza tra il mio modo di procedere e quello di Marco Travaglio no? vedete Marco Travaglio raccoglie gli articoli sui politici e Indro Montanelli tanti anni fa disse al giovane Travaglio tu sarai imbattibile perché tu possiedi un archivio e Seraphino Massoni possiede questo archivio qua questo archivio qua possiede c'è no tanti di questi articoli di questi ritagli di giornale capito? degli uomini che hanno fatto il test in media uno su sei risultato non essere il padre del bimbo uno su sei dieci su sessanta cento su seicento e poi non è stato mica fatto a tutti il test cento su seicento non è mica una cosetta da niente allora mi raccomando andate a esaminare bene i dipinti della Sacra Famiglia soffermatevi e riflettete sul fatto che la Vergine Santissima guarda solo il bambino non lo guarda mai Giuseppe non lo guarda mai mi pare che mi pare che ci sia un dipinto dove lo guarda non so proprio come si è saltato fuori quel dipinto ma non sono manco sicuro va bene e ricordatevi pure del rapporto Eure Eures Anza 2009 fate delle vostre belle riflessioni e non abbiate paura che questi miei discorsi non la fanno finire la specie umana capito? perché i giovani ve l'ho già detto ve lo devo ripetere i giovani poverini sono stati cresciuti così male nella famiglia monogamica patriarcale c'è un meccanismo così infermale per cui tutti i giovani ragazzi e ragazze adolescenti si chiamano i giovani di belle speranze e non hanno la capacità di riflettere sul fatto che è il meccanismo della famiglia che è sbagliato no danno la colpa ai loro genitori se i loro genitori hanno ridicato per tutta la vita la colpa non è dell'istituto familiare no dei loro genitori che non sono stati capaci di fare i genitori ma loro sì i loro figli che sì che saranno capaci per cui il meccanismo è andrà avanti all'infinito nonostante i video di Serafino Massoni capito? se non altro questi video vi porteranno a riflettere di mettere un po' tra parentesi la passione d'amore e di fermarvi di più sui sentimenti d'accordo? sui dolci sentimenti non c'è bisogno di ricorrere alla passione dell'amore se poi la passione dell'amore porta ad impugnare i coltelli o le pistole va bene va bene cari amici la stirpe del serpente queste cose le trattate bene in questo romanzo la stirpe del serpente ambientato ai tempi della guerra di Troia e considerata come un momento cruento di passaggio dal matriarcato al patriarcato va bene cari amici mi raccomando se vi sposate o se fate un'unione di fatto prima andate a vedere i dipinti della Sacra Famiglia Gesù, Giuseppe e Maria dove vedete che Maria non se lo fila per niente Giuseppe guarda solo il bambino grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni